Ben ritrovati, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione all'interno dei comuni dell'Unione Terre d'Acqua di Bologna. Oggi vi parliamo di molti argomenti, molte cose sono successe la scorsa settimana, come avete anche visto dai titoli di apertura, quindi partiamo subito e iniziamo con il bilancio dell'Unione Terre d'Acqua, è un bilancio che è stato approvato senza troppe polemiche, troppe battaglie tra la minoranza e la maggioranza, è un bilancio che tra l'altro prevede un aumento rispetto al 2016, se il 2016 era un bilancio di 3 milioni e 800 mila, quest'anno si è alzato un po' di più il tetto e si è andati sui 4 milioni 335, ciò è dovuto a minori introiti che arriveranno dalla regione, mentre aumenteranno le spese per il personale, questo è anche dettato dal fatto che l'Unione, come ha spiegato il Presidente Emanuele Bassi, sta cercando sempre di più di assumere un'identità e per questo si doterà di personale proprio senza andare in prestito dai vari comuni e col passare del tempo avrà anche una propria sede, ascoltiamo l'audio del Sindaco di Sala e il Presidente dell'Unione Emanuele Bassi. La regione non è statica, per cui noi stiamo provando ad inserire nuovi servizi all'interno dell'Unione, il nuovo Sindaco, il bilancio che sta occupando è il Sindaco di San Giovanni di questi due collegati, che credo abbia fatto un buon lavoro nel capire il bilancio dell'Unione, nel mettersi dentro proprio e cercare di risparmiare il più possibile, visto che questo è l'intento non solo dell'assessore, del legato, ma anche di tutti gli altri sindaci, però logicamente inserendo dei nuovi servizi, avendo bisogno di nuove tecnologie e volendo che i servizi siano migliori rispetto a quelli che erogano i singoli comuni, bisogna anche investire, per cui non è detto che tutti gli anni il bilancio dell'Unione sia pareggio, ma bisognerà che i comuni investano sull'Unione per garantire, per ampliare servizi sempre più efficienti. Poi il personale, anche se noi stiamo per strutturare un'Unione bisogna che ci sia del personale che sia dell'Unione, bisogna che finiscano un po' tutti quei rapporti che c'erano di personale che erano a metà tempo in alcuni comuni e l'altra metà del tempo all'interno dell'Unione, bisogna che i dipendenti siano totalmente dell'Unione e che l'Unione abbia una sua entità, entità che vuol dire anche vedere se prossimamente ci stiamo impegnando, si riuscirà ad avere anche una sede dell'Unione in cui dentro ci sono tutti i suoi funzionari dipendenti e che se un cittadino ha bisogno dell'Unione non è un comune, San Suanni, Sant'Agata, Anzola, ma è l'Unione di terra d'acqua per cui lì si trova la sede, si trovano i servizi per capire anche meglio cosa fa l'Unione e quali sono i servizi che erano, tutti d'accordo insomma. Abbiamo ascoltato il Presidente dell'Unione, vi riportiamo anche il parere del Consigliere di Opposizione Gabriele Gallerani che sostiene che si tratta di un bilancio difficile perché si scontano scelte di gestione sulle quali in passato sono stati espressi forti dubbi, come ad esempio il SIAT e il Corpo di Polizia Municipale e sono emerse le difficoltà di un'Unione che non vede più i singoli comuni agire in forma completamente autonoma, ma non si tratta ancora di un solo, di un unico comune. Questi sono i dubbi espressi da Gallerani che ha anche evidenziato come vi siano dei punti condivisibili, altri un po' meno, ha anche espresso la possibilità di poter svolgere politiche il più unitarie possibili con le varie partecipate come ad esempio Era, Virgilio, Matilde e Geovest, anche se non si tratta di un compito dell'Unione e anche qui a detta di Gallerani non ci sarebbe proprio un'unità di intenti nei vari sindaci in quanto alcuni sarebbero favorevoli a questa proposta, altri un po' meno, quindi vedremo se si riuscirà a trovare una sintesi in questo senso. Voltiamo pagina e cambiamo argomento. Parliamo di cronaca, la settimana scorsa, il 22 marzo scorso, la popolazione di Padulle di Sala Bolognese è stata svegliata da un grande boato, non si è trattato di una causa naturale, bensì di un furto avvenuto nell'ufficio postale situato in via della Pace a Padulle. I ladri hanno infatti fatto saltare il bancomat, hanno usato dell'esplosivo, una sostanza deflagrante e sono fuggiti con un bottino, secondo le forze dell'ordine di circa 10 mila Euro, forse anche un po' di meno, visto che il denaro contenuto nel bancomat forse una parte è anche andato distrutto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Sala Bolognese del nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persiceto, che hanno subito avviato le indagini per risalire agli autori del furto e sono stati anche effettuati rilievi dai tecnici dei carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Bologna. Abbiamo contattato sempre il sindaco di Sala Bolognese che ci ha spiegato come sono andate le cose, ascoltiamo l'audio. Io abito nella forzione di Sala, mi hanno avvisato subito, però non ho sentito assolutamente nulla e poi l'unica cosa che spero è che al più presto venga risistemata la posta, perché è un servizio per il territorio, per Padula e per Salabinieri, è già importante, se no bisogna che vai a San Giovanni in Persiceto o a Calderra di Reno. Le vetrate, il negozio, la posta è completamente chiusa adesso, perché non solo le vetrate esterne, ma anche l'interno è stato tutto distrutto. Ci sono state anche in passato, credo, ricordo un'altra volta, ma non così forte da demolire tutto quello che sono le poste, sia fuori che dentro, adesso ci vorrà tempo per rimetterle posto e per riaprirle, è vero che venga veramente fatta più presto, soprattutto per le persone anziani che sono abituate ad avere la posta sotto casa, è un disagio notevole, faremo di tutto perché vengono riaperte il primo possibile in accordo con le poste. Quello che hanno provato via sono dai 2.000 ai 4.000 Euro, è anche tutto quello che c'era nel banco. La cosa che mi interessava sapere era se si era fatto male qualcuno alle prime telefonate che ho fatto e come era messa la posta per vedere quanto era il tempo di ripristino sui soldi che c'erano, che hanno portato via, quello è secondario. Le persone che erano capitano sopra le poste, gli viti del foco hanno fatto tutti i vari spiegi per cui non era successo niente all'edificio e sono tornati nelle proprie abitazioni. Parliamo di politica con due argomenti che stanno tenendo banco tra San Giovanni e Sant'Agata Bolognese. Partiamo da San Giovanni, riguarda la polemica, riguarda il cattivo odore che si sentiva nel modulo S delle scuole a Romagnoli. La questione inizia già il 10 dicembre scorso quando l'amministrazione viene interessata e subito si attiva per scoprire la causa di questi cattivi odori. Vengono fatti dei sopralluoghi anche con lausle e con arpa, non si trovano sostanze inquinanti nell'aria e pare che il tutto fosse dovuto a dell'umidità sotto la pavimentazione. La problematica è in via di risoluzione, però non mancano le polemiche in particolare nel comunicato della lista civica di maggioranza impegno comune, ci si domanda perché prima di tale data agli atti non risulti nessuna formale segnalazione della problematica. sul nostro sito www.terradacquanews.it potrete trovare tutta la polemica che è in atto. Spostiamoci invece a Sant'Agata Bolognese, o meglio tra Sant'Agata Bolognese e Creva il Core, dove è in atto una polemica molto pesante tra i due sindaci. Da una parte Giuseppe Vicinelli, dall'altra Claudio Broglia, al centro c'è la questione del centrale di biometano. Da una parte c'è Broglia che accusa Vicinelli di aver fatto praticamente tutto da solo, dall'altra c'è Vicinelli che si difende e dice che è stato il sindaco di Creva il Core a non essersi mai interessato della questione. Sempre sul nostro sito potrete trovare la risposta all'ultimo tassello, ovvero la risposta di Vicinelli a Broglia. Vedremo come andrà a finire la questione. Voltiamo pagina e ci spostiamo nuovamente a San Giovanni in Presiceto. Il 21 marzo scorso si è tenuta la 22esima giornata della memoria dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dall'Associazione Avviso Pubblico e Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie nell'ambito della manifestazione nazionale dei luoghi di speranza, testimoni di bellezza. Anche a San Giovanni si è tenuta una celebrazione e c'è stato un consiglio comunale straordinario. Sono intervenuti oltre ai consiglieri comunali, oltre al sindaco, c'è stato anche l'intervento via telefono di Giuseppe Antoci, Presidente del Parco dei Nebrodi, promotore di un protocollo tendente ad eradicare l'illecito accesso ai fondi europei e per tal motivo vittima nel 2016 di un attentato mafioso. Inoltre sono intervenuti anche dei docenti dell'Istituto Archimede e per finire dei ragazzi sempre dell'Archimede che hanno riportato la loro esperienza in quella di Palermo. Andiamo a vedere il contributo video. ...essere di nostre persone qui di Pesissetani e passare questo messaggio forte ai ragazzi, ripetendolo, perché non basta una volta solo, mi rivolgo agli insegnanti, ripetiamolo, ripetiamolo, onestà, correttezza, solidà, devono essere termini questi che dicevano vivere quotidianamente ma non solo come termini in sé ma come significato proprio del termine. E' questo che ci compete, è quello che dobbiamo passare ad una generazione. Lo sforzo che cerchiamo di passare anche noi come amministratori e io come sindaco in tutte le occasioni che mi vengono offerte, non ultime ma anche quelle di sera quando abbiamo parlato di controllo di vicinato, è proprio questo. Dobbiamo passare dei messaggi di impegno civico, di partecipazione, di onestà, sono tutti termini questi che non sono desueti, sono stati solo un po' dimenticati, lasciateli in angolo, dobbiamo recuperarli, questa è la forza che ci viene chiesto. Mi rivolgo agli insegnanti perché hanno un compito principio importante di trasmettere questo ai ragazzi, ma non solo, diciamo anche ai genitori perché è comodo non scaricare gli insegnanti. Tant'è che vi hanno detto stamattina, dissevo anche ai referenti delle forze dell'ordine, potremmo attivare, anzi chiediamo di attivare degli incontri proprio anche con i genitori, perché si parli in questi termini, non solo i ragazzi, ma i ragazzi possono essere un veicolo per arrivare anche ai genitori, perché anche i genitori devono essere coinvolti su questi grandi temi. La legalità non è di altri, è nostra, l'onestà è nostra. Se tutti noi riusciamo a passare questo messaggio, probabilmente riusciamo a essere vincenti lontani e vicini. Grazie. Veramente un abbraccio forte per tutti voi, ma oggi è veramente una giornata speciale, io sto tornando in Sicilia da Locri e pensare che l'Italia è unita in questo bel momento di lotta alla mafia, quella praticata, quella che fa i risultati, ma le fa soprattutto nella coscienza di ognuno di noi. È come quella macchina che può andare a 200 all'ora ma manca la vendita e oggi la stiamo mettendo ognuno quella quantità che serve per andare sempre avanti, per combattere con forza e dignità. Quindi io veramente vi ringrazio molto di questo momento e sono convinto che noi, le persone per bene, siamo più di loro, siamo tanti più di loro. Quindi questa battaglia e questa guerra, se ci mettiamo cuore e passione, la vinciamo. Ma guarda, noi stiamo facendo, parlavo di antimafia praticata perché noi stiamo facendo grandi risultati, l'avete visto anche dagli organi di stampa, stiamo revocando tutti i terreni e i capi mafia e adesso stiamo procedendo, la DIA ha proprio proceduto nei giorni scorsi a confiscare anche i beni, i terreni, i fondi che hanno ottenuto dalle truffe ai fondi europei, ci sono stati anche degli arresti forti, numerosi. Insomma, io dico che quello che noi stiamo raccontando attraverso questa esperienza del protocollo di legalità, che ormai è stato firmato da tutti i prefetti e quindi in Sicilia è applicato in tutte le province, è un'attività di lotta alla mafia che dà risultati. Io penso che una parte importante di messaggio che va lanciato è proprio quello di raccontare un'antimafia che fa i risultati, cioè di dire alla gente che facendo la lotta alla mafia con gli strumenti giusti, dando la possibilità veramente di lavorare alle forze dell'ordine e alla magistratura cercando anche di dare dei segnali giusti, di non decrementare i tribunali magistrati e di dare forza attraverso strumenti e anche fonti finanziarie alle forze dell'ordine. Perché nella società civile questa forza di squadra, ritagliandosi ognuno un pezzettino di responsabilità sta passando e passa sempre di più se noi raccontiamo quello che otteniamo nella lotta alla mafia. Non basta dire che la mafia è brutta, che la mafia non va bene di raccontarlo nelle scuole, noi dobbiamo sempre più raccontare invece i risultati. I risultati in questo territorio sono quello che è Cosa Nostra, noi l'abbiamo disarcionata e a poco a poco ci stiamo togliendo quello che loro si erano indebitamente presi per i quali i fondi europei finanziavano sostanzialmente tutte le attività più importanti di Cosa Nostra in Sicilia, glieli stiamo togliendo e vogliamo redarli a chi è giusto che vadano, ai giovani, agli agricoltori onesti, alle persone per bene che devono sentirsi oggi più liberi perché ai bandi non possono più partecipare. Ecco gli strumenti, raccontare come attraverso strumenti semplici e soprattutto facendo solamente il proprio dovere si può veramente mettere all'angolo le mafie, diciamo con una certa normalità, ecco mi piace dire che si può fare con normalità. Adesso aspettiamo il contributo degli studenti che hanno partecipato ai campi, quindi Laura Della Rola, Diego Fellin e Alessandro Frabetti. Prego. Noi siamo tre ragazzi dell'ultimo anno dell'Archimede e qualche anno fa abbiamo partecipato a uno dei campi di estate liberi organizzati appunto dall'Associazione di Libera in collaborazione con gli enti del territorio. Noi siamo stati, come diceva la prof prima, a Marina di Cinesi nel bene confiscato dedicato a peppini impastato, ciuri di campo e è stata un'esperienza molto formativa che ci ha dato tanto sia dal punto di vista umano, in quanto i campi di libera sono organizzati proprio basandosi sulla solidarietà, la collaborazione, la giustizia sociale e anche dal punto di vista delle tematiche, perché siamo entrati in contatto con realtà di cui prima di allora comunque avevamo solamente sentito parlare, ci sembravano cose veramente lontane, mentre andando nei posti in cui siamo stati abbiamo potuto davvero entrare in contatto attivamente con queste realtà. I campi di libera ci hanno permesso di capire che ricordare e voler mantenere viva la memoria non è solamente un'azione passiva, ma consiste nel tradurre attivamente in impegno quello in cui si crede. Le nostre giornate erano organizzate proprio in modo tale da dare un contributo attivo al campo, abbiamo contribuito alla restaurazione del bene confiscato, dedicandosi a lavori di giardinaggio, chi andava a lavorare nei campi, preparando anche solo da mangiare e utilizzando comunque prodotti tutti basati su agricoltura sostenibile e coltivati dalle associazioni. La cosa che più è stata, penso per tutti, veramente nuova e ci ha permesso veramente di capire le realtà sono stati gli incontri pomeridiani che ci hanno permesso di incontrare comunque vittime, familiari di vittime innocenti di mafia. Buonasera a tutti. L'incontro che a me mi ha toccato più nel profondo è stato quello con Antonio, lo chiamerò così ma capirete soltanto la fine della mia storia perché l'ho chiamato così. lui si è presentato e ci ha iniziato a raccontare la storia di suo padre. Suo padre fu ucciso da un proiettile vagante in piazza, suo padre non centrava niente con la mafia, era un uomo comune, un uomo come tutti. Lui era una vittima innocente di mafia, sono state decine le vittime innocenti di mafia. Il suo discorso l'ha concluso dicendo io non sono nessuno, mio padre non era nessuno, ma queste persone sono state uccise, sono state uccise dalla mafia e per questo è giusto ricordarle. Poi certamente ci sono altre persone, forse il cui cognome è più altisonante come Peppino Impastato, infatti noi abbiamo parlato anche col fratello di Peppino Impastato, Giovanni. Buonasera. Questi incontri hanno avuto un grande peso dal punto di vista formativo e anche sulla nostra esperienza personale, in quanto danno proprio una testimonianza diretta di quella che è una realtà che diversamente viene solamente letta sui giornali, ascoltata per la radio, vista in televisione, ma ci rendiamo conto che tutte queste dinamiche così causano dolore vero a famiglie che potevano essere coinvolte in un'azione attiva alla lotta contro le mafie oppure si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Soprattutto durante l'incontro con Giovanni Paparcuri, che faceva parte della scorta, l'autista del giudice Chinnici che è rimasto vittima di un attentato mentre si recava lavoro, ci siamo resi conto come spesso queste persone, che fanno tantissimo per la comunità, si sentano sole, sole nella lotta contro questa sorta di chimera che spesso sembra inestirpabile quanto è radicata nella mentalità di tutte le persone e quanto è diffusa all'interno della società, ma è importante attraverso queste testimonianze e questa vicinanza anche da parte nostra che ci troviamo molto lontani dalla Sicilia per far sentire la nostra vicinanza. Inoltre ci siamo resi conto, parlando, girando tutti insieme con le stesse maglie di Libera in giro per la città di Palermo, come comunque venga smossa anche la coscienza, l'attenzione dei cittadini che ci vedono passare, per esempio nel mio caso mi hanno fermato per chiedermi informazioni su quella che poteva essere la nostra iniziativa, per quale motivo eravamo venuti dall'Emilia Romagna in Sicilia direttamente per fare un'esperienza del genere. Magari non tutti siamo partiti per una coscienza civile che penso che a 15, 16, 17 anni sia normale non averne acquisita già una completa, però sicuramente se per curiosità o per altri motivi siamo partiti tutti insieme con il desiderio di fare questa esperienza, si può ben sperare che ci siano altre persone che abbiano la voglia e la curiosità di capire come funziona tutto ciò per far sì che questo male, possiamo chiamarlo così, non si diffonda. Quindi penso che possa partire anche dai gesti di tutti i giorni, dalla nostra consapevolezza quella che è una vera e propria azione civile contro le mafie. Grazie. Penso che la maggior parte di voi abbia sentito dei fatti accaduti ieri, cioè delle scritte sui muri contro Libera e vorrei leggere per concludere il nostro intervento il messaggio di Don Ciotti che è il fondatore di Libera. Questi vili messaggi, vili perché anonimi, sono comunque un segno che l'impegno concreto dà fastidio, risveglia le coscienze, fa vedere un'alternativa alla rassegnazione e al silenzio. Grazie a tutti. Ricordiamo che i ragazzi sono stati ai campi estivi nelle terre confiscati alle mafie. Per il video ringraziamo il comune di San Giovanni in Persiceto che ci ha gentilmente fornito il contributo. Quindi cambiamo argomento anche se rimaniamo a San Giovanni in Persiceto. Parliamo di FIAB, l'Associazione degli Amici della Bicicletta. Sabato 25 marzo si è tenuto un convegno che ha voluto fare il punto della situazione per quanto riguarda il tratto ciclistico Bologna-Verona, il famoso Eurovelo. È stato fatto il punto della situazione con tecnici, con addetti ai lavori e con chi si sta occupando dal punto di vista politico della questione. Purtroppo i lavori subiranno un ritardo, quindi non si tratterà più del 2018, bensì del 2019. Ascoltiamo l'intervento del tecnico della città metropolitana. Prego col servizio. Questi sono i tempi. Ho sui tempi, devo dire che a noi tutti piacerebbe fare molto prima rispetto a quello che purtroppo a volte succede, quasi sempre. Il nostro obiettivo era finire, se qualcuno di voi se lo ricorderà, anzi sono certo che vedo chi nel passato ha avuto anche responsabilità politiche, si ricorderà che il nostro obiettivo era arrivare entro il 2018, ora c'è stato un ostentamento, arriveremo al 2019, speriamo di arrivare all'ultimazione dei lavori al 2019, nel senso che oggi stiamo per approvare il concetto definitivo a giugno, a ottobre l'esecutivo, a marzo ci dovrebbe essere la conclusione della gara del patto, a luglio dell'anno prossimo la consiglia dei lavori, e poi c'è una realizzazione suddivisa in due lotti, uno più semplice, quello no, perché negli attraversamenti che sono già adeguati, invece quello sotto ha il problema con i ponti RFI, ma questo è un tema molto diretto, quindi un primo impegno a quello che in questo momento per ragione che gli ormai stiamo cercando proprio di confezionare in modo che almeno a gennaio ci sia, diciamo dicendo il 2018, così come era stata la prima promessa, ci sia metà del tracciato, cioè Prevalcore, Camposanto e non solo, perché dovrebbe arrivare fino a Mirandola, e la seconda parte invece viene realizzata nel 2019, concludendo l'intero progetto del 2019. Questa è un po' la tempistica, ci sono attività in corso ovviamente molto concitate, perché è un periodo in cui ci troviamo molto spesso con il gruppo di lavoro, un gruppo di lavoro fatto evidentemente da città metropolitana in Regione Emilia Romagna, un gruppo di lavoro sia tecnico che politico, e entro il 2017 noi abbiamo bisogno di, entro giugno del 2017 abbiamo definito una data nel quale dobbiamo definire alcuni aspetti essenziali, non tutto è risolto, è difficile che sia, cioè bisogna sempre stare sul pezzo perché i problemi sono sempre molto consistenti e c'è una serie di argomenti, per cui la disponibilità delle aree, la definizione di proposte nei tratti esterni, la segnaletica, tutto il tema della partecipazione e della comunicazione del progetto, questo fatto che c'è un interesse diretto del governo su questo progetto, come è relazionale su questo interesse diretto. Abbiamo anche recentemente ricevuto dei segnali molto forti dal governo su quanto stanno puntando, ci sono due ministeri che hanno interessato, ambiente, infrastrutture. Rimaniamo a San Giovanni in Persiceto e vi mostriamo alcune immagini di un evento che si è tenuto sempre sabato 25, si tratta dello spettacolo del cuore. È un appuntamento a cui noi non manchiamo praticamente mai, lo seguiamo con attenzione ogni anno. È uno spettacolo organizzato in favore dell'associazione Piccoli Grandi Cuori Onlus. Il Deus Ex Machina di questo spettacolo è Moreno Cavallotti della Incanto School di Sant'Agata Bolognese e Bologna e ogni anno riesce a organizzare questo spettacolo che offre musica, offre momenti di comicità, in particolare quest'anno dove è stato invitato il comico cabarettista Carlo Frisi che ha offerto le sue mille trasformazioni, noi lo abbiamo intervistato, quindi ascoltiamo una piccola anticipazione dell'intervista e vediamo anche un'altra anticipazione dello spettacolo. Potrete trovare l'intervista integrale sul nostro canale YouTube e mentre nel strato più lungo dello spettacolo lo potrete trovare nel canale Vimeo in quanto, come sapete, quando c'è della musica dobbiamo sempre stare attentissimi a quello che carichiamo visto che YouTube potrebbe censurare il tutto. Quindi vediamo alcuni momenti dello spettacolo del cuore. Via col video! Tredacqua News, San Giovanni in Persiceto Teatro Fanin, ci troviamo qui per lo spettacolo del cuore, un appuntamento ormai imperdibile che seguiamo tutti gli anni, dodicesima edizione e ci troviamo nel camerino prima dell'inizio con l'ospite d'onore della serata, Carlo Frisi, benvenuto. Grazie, grazie, mi fa molto piacere, sono molto contento di essere qua, questa bellissima causa che insomma trovare, fare una serata sempre in beneficenza per raccogliere fondi non è una cosa brutta, anzi tutt'altro. Infatti poi lo diranno durante lo spettacolo sono moltissimi i fondi che sono stati raccolti nel corso di tutti questi anni. Sì, infatti, ho visto tanti ospiti, tante cose, quindi sono contento di poter partecipare e dare il mio apporto alla manifestazione. È la prima volta che vieni a San Giovanni in Persiceto? È la prima volta, è la prima volta che vengo, nonostante sono di Rimini, è originario di Rimini, adesso risiedo da dieci anni a San Marino, ho la mia famiglia lì, però è la prima volta, infatti, mi incuriosisce molto la serata e conoscere per la prima volta anche il pubblico di San Giovanni. Tu sei un comico, un cabarettista che ha iniziato molto presto e ha avuto il grandissimo vantaggio di conoscere grandi nomi della comicità all'italiana, Gino Bramieri, Gigi Sabani, purtroppo non ci sono più, avrebbero ancora molto da insegnare sicuramente. Vuoi dire un ricordo, che cosa ti ricordi di loro, qualche aneddoto? Guarda, sono legato a entrambi a un profondo affetto e nel mio ufficio ho due belle immagini loro che le vedo tutti i giorni o almeno tutte le volte che vado lì. Gino Bramieri, eravamo io, Gino Bramieri, Dino Verde, grande autore, Pietro Garinei, grande regista teatrale e Romolo Siena, regista televisivo. Quindi era una cosa esagerata per me, che ero giovanissimo, è stata una cosa molto bella. Lui mi ha sempre accolto con affetto, mi ha aiutato moltissimo anche in scena dove ero molto emozionato con questi mostri sacri. Quindi mi ha detto vai sempre tranquillo, è una cosa che ricordo sempre con affetto, e mi ha detto stai tranquillo Carlo che mangerai sempre, questa è una cosa molto bella. Gigi Sabani ci siamo conosciuti nel 90 perché io facevo un concorso che si chiamava stasera mi butto per soli imitatori e lui è stato molto carino con me perché lui era già un personaggio molto affermato fino agli anni 80, primi anni 90 e quando preparavo i 5-6 minuti che erano, diciamo, la mia esibizione, più o meno durava quel tempo lì, lui mi chiamava dietro le quinte e mi diceva facciamo prova, fammi sentire quello, ah bello così, sì, perfetto così, e mi presentava sempre con grande enfasi che a volte mi metteva quasi in imbarazzo questa cosa. Quindi la sua scomparsa così prematura è stato per me un grande dolore perché poi negli anni successivi a quella edizione di stasera mi butto mi ha sempre dimostrato grande affetto, ovviamente contraccambiato, con altre apparizioni, altri sketch che abbiamo fatto insieme anche di grande successo di ascolti, con grande successo di ascolti e quindi la sua prematura scomparsa mi ha lasciato così un grande dispiacere e un grande dolore, però di entrambi ho un grandissimo ricordo e speriamo che in questo momento siano da qualche altra parte a far ridere qualcuno da qualche altra parte. Parlando delle imitazioni, c'è una vittima che prediletta, una che proprio nei tuoi spettacoli c'è e ci sarà sempre? Una mia imitazione che ha avuto successo è stata quella di Aldo Biscardi e la feci nell'86 nel primo talent della televisione italiana che era fantastico con Pippo Baudo e lì per la prima volta ho fatto Aldo Biscardi, era il 1986 quindi non c'erano i cellulari, lui rimase molto contento della mia imitazione e mi cercò in Rai e in Rai dietro il numero della casa dove stavo, ero a casa di un amico e lui chiamò il mio amico, non c'era nessuno, lasciò un messaggio in segreteria e il mio amico appena sono tornato a casa mi ha detto Ah Carli, bello lo scherzetto che mi hai fatto con la voce dei Biscardi, no? Ma io ho detto no, non ho chiamato, abbiamo riascoltato, ma guarda che, te lo faccio sentire, mi ha mantenuto, mi ha fatto riascoltare, ma non sono io, come non sei te? E abbiamo, insomma, tra il fatto così, abbiamo visto che era lui e perché poi ha lasciato un numero per essere richiamato e poi mi ospitò al processo del lunedì che era un programma di grande successo e poi nel 92-93 feci la sigla del processo del lunedì dove imitavo lui con la parrucca proprio dentro il suo programma e mi ricordo che lui, quando abbiamo registrato la sigla, mi disse dalla regia tu mi devi prendere in giro di più, di più, che a me già sembrava di aver fatto l'ira di Dio di cose e lui era strafelice, addirittura il finale della sigla diceva gentile telespettatore, adesso ecco a voi Ald Biscard e lui in diretta, grazie, grazie, grazie io ero stato un anno bellissimo lui è stato il personaggio straordinario che, anzi, come ti dicevo prima diceva che dovevo osare ancora di più e fare ancora di più quindi per me è stato una bella cosa anche questo è un bellissimo ricordo un grosso personaggio che ancora può dare tante cose belle allo spettacolo italiano penso che sia uno dei pochissimi personaggi che chiede l'originale che chiede di essere preso in giro di più no, a Roma quando abbiamo avuto il piacere di fare due passi con lui si giravano anche i San Pietrini lo salutavano tutti, taxi, pullman c'era un personaggio con questi capelli con questa parlata così particolare e poi con un programma sportivo fatto sempre molto bene molto seguito è veramente un grosso personaggio grazie a tutti 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 Ha tenuto appunto questo workshop che è stato organizzato dal Bardamu e da Bot Studio Recording per insegnare ai ragazzi i vari trucchi del mestiere o per meglio dirla, per mettere a disposizione tutto quel bagaglio di esperienza che Senigallia ha acquisito in tutti questi anni. Noi siamo andati lì e abbiamo fatto qualche domanda a Riccardo Senigallia. Come nel caso dello spettacolo del cuore vi ricordiamo che l'intervista integrale la potrete trovare sempre nei nostri vari canali YouTube. Quindi via col servizio! Per Teradacqua News salve a tutti, siamo a Calderara di Reno e siamo in compagnia di un ospite molto molto speciale, Riccardo Senigallia che si trova qui con noi perché c'è un evento che è stato organizzato da Bot Studio Recording assieme al Bardamu, è un evento organizzato ogni anno in cui vengono invitati musicisti molto conosciuti, molto famosi che fanno questa lezione ai ragazzi, insegnano i trucchi del mestiere possiamo dire. Io tendenzialmente quando mi invitano a fare questi incontri cerco il più possibile di evitare l'attitudine dell'insegnamento anche perché fortunatamente questo come altre attività artistiche è un percorso molto difficile da insegnare. Si può andare, si può andare insieme e mettere a disposizione il bagaglio che negli anni di militanza sul campo si è avuto il privilegio di osservare da vicino, ecco questo sì. Insegnare è difficile perché qualunque cosa si insegna poi rischia di diventare uno schema del quale poi si può diventare prigionieri o comunque perdere poi il confronto con se stessi molto libero, molto lontano anche dalla volontà di voler fare qualcosa che si è imparato. È chiaro che però ci sono poi dei trucchi, come dici tu, ma che chiamerei più volentieri strumenti del mestiere con i quali più si ha dimestichezza e più si hanno benefici. Per concludere ti chiedo se segui o sei seguito un po' il panorama musicale bolognese, quindi c'era un certo Lucio Dalla, adesso non c'è più e quindi secondo te come si sta evolvendo la musica da Lucio in poi. Lucio penso che a Bologna sia stato un centro, forse è difficilmente eguagliabile perché mi ricordo un concerto di Luca Carboni in cui c'erano tutti, molti suoi colleghi, molti bolognesi recentemente dopo la scomparsa di Lucio e mi ricordo quanto si sentisse questo buco proprio, questa voragine storica e artistica. Io ho conosciuto Lucio Dalla, sono stato due volte da lui alle tremiti per lavorare su una cover di Com'è profondo il mare che facevamo con i di Romancino e poi per un altro progetto che dovevamo fare insieme poi non se ne fece più niente. Lui mi chiamò perché era una persona così curiosa e così intelligente da andarsi a cercare, io all'epoca ero giovane quindi squillava il telefono, era Lucio Dalla e questo dimostrava quanto fosse veramente aperto rispetto a molti suoi colleghi che invece sono più pigri da questo punto di vista. è inutile che descriva io Lucio Dalla l'importanza che ha avuto nella musica italiana è difficile che si possa ripetere quello che lui ha fatto. Bologna è sicuramente come dice Luca Carboni una regola perché è uno standard stilistico, cioè ha una taratura sotto la quale non si può scendere e quindi sarà sempre un centro. Basta citare tanti artisti, non solo Lucio Dalla ma anche appunto Luca Carboni stesso ma anche Claudio Lolli, Guccini, tutti quelli che da Bologna sono passati e comunque hanno preso e lasciato qualcosa da qua. Anche più recentemente io mi ricordo il periodo dei sangue misto a livello 57 per me fu decisivo, cioè per me Bologna è sempre stato un centro fondamentale per la musica italiana. Anche più recentemente insomma so che c'è molto fermento e quindi aspettiamo delle nuove uscite importanti. con questa ultima riflessione, questa bellissima riflessione se mi posso permettere l'intervista si chiude qui, noi ti ringraziamo e speriamo di poterti rivedere ancora magari anche in qualche concerto, chi lo sa. Anzi, se hai qualcosa che... appena sarà finito il disco partiremo per un nuovo tour, quindi ci sarà nel giro di poco tempo un nuovo disco, un nuovo tour e passeremo da Bologna ovviamente. Perfetto, allora ti aspettiamo qui. Grazie ancora e per terra da Quagnusa, Calderara di Reno, a linea allo studio. Ringraziamo per la disponibilità Riccardo Senigallia e anche Bardamu e Bot Studio Recording per averci dato l'opportunità di intervistare Senigallia e anche per tutti i vari incontri che organizzano ogni anno per i ragazzi, per tutti i musicisti che hanno voglia di di confrontarsi con chi ha molta più esperienza di loro ed è riuscito ad arrivare al successo. In chiusura vi ricordiamo come sempre i vari appuntamenti che ci sono nell'Unione di Terre d'Acqua, in questo caso ci concentriamo in quel di Calderara, non ce ne vogliono gli altri comuni, però ci sono tre appuntamenti molto interessanti che vi invitiamo a seguire. Il primo è mercoledì 29 marzo alle 21 nel Teatro Spazio Reno, ci sarà un incontro su bullismo, cyberbullismo, social e web. Questo riguarda il progetto Mi Fido di Te, del punto di domanda finale, che è stato svolto dalla Polizia Municipale di Terre d'Acqua. Noi l'abbiamo anche seguito, se andate a vedere uno dei nostri telegiornali oppure cliccate sul link che è in descrizione, potete trovare il servizio che abbiamo realizzato. In sostanza la Polizia Municipale di Terre d'Acqua è andata nei vari istituti scolastici del territorio per spiegare ai giovani quali pericoli si annidano nella rete e perché è sbagliato il cyberbullismo. Quindi fare sempre attenzione a quello che si scrive in rete e soprattutto a quello che si pubblica, a quello che si divulga, perché una volta che un contenuto è in rete, lì rimane per sempre. Alla serata, che ricordiamo inizierà alle 21, parteciperà oltre al sindaco Irene Priolo, anche Giorgio Benvenuti, comandante della Polizia Municipale di Terre d'Acqua, Emanuele Cardiota, dirigente didattica e il Maggiore Walter Calvi, comandante della Compagnia Carabinieri di Borgo Panigale. L'evento è gratuito. Un altro evento invece sarà sempre a Calderara, ci sarà un'assemblea pubblica giovedì 30 marzo alle 15 al centro Bacchi. Anche in questo caso si tratterà di mettere in guardia le persone, strumenti e contromisure per evitare truffe e raggiri. È un'assemblea a cui aderisce il Comune di Calderara alla campagna Non ci casco, promossa da SPI CGL. Questa assemblea, se quella di prima era rivolta ai giovani, questa in particolare è rivolta agli anziani per illustrare i diritti dell'essere cittadino, gli strumenti di cui possono disporre per evitare le truffe e i raggiri. Ricordiamo che l'evento si svolgerà giovedì 30 marzo alle 15 al centro sociale Bacchi di Calderara in via Gramsci 53. Interverranno Donato Donini, Presidente del centro sociale Carlo Bacchi, Gian Piero Falzone, Vice Sindaco del Comune di Calderara di Reno, Giuseppe Genna, Avvocato Consulente Legale di Federal Consumatori Bologna, Katia Spuri, Segretaria della Segreteria dello SPI di Calderara, Mario Casedio Loretti, Segretario dello SPI di Sala Bolognese e Vanagrassi, Segreteria SPI di Bologna. L'ultimo appuntamento, sempre a Calderara, sarà l'1 aprile e riguarda l'Ecofesta, è un appuntamento imperdibile per i cittadini, partirà dalle 2.30 in Piazza Marconi, protagonista ovviamente l'ecologia, ogni anno c'è un tema, quello di quest'anno è la Quinta Essenza, quindi dalle 14.30 alle 17.30 in Piazza Marconi ci saranno i vari laboratori per bambini e adulti e l'associazione Baco farà vedere un teatrino ambulante e sarà uno spettacolo per riflettere sulla minaccia agli ambienti naturali. con questa notizia il giornale si conclude, noi vi ringraziamo come sempre per averci seguito, vi ricordiamo tutti i vari appuntamenti, quindi il giovedì sera con la web radio, il venerdì con il meteo e le anticipazioni sportive e la domenica con i risultati sportivi. Continuate a tenere sempre sotto controllo il nostro sito www.teredaquanews.it, in quanto è il contenitore dove convoglia tutta la nostra informazione e anche i vari social. Grazie a tutti per la vostra attenzione e ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao, sigla!